ciao a tutti e benvenuti su mtgps ma amici soft lotus allora oggi tre investimenti veloci per innistrad la nuova espansione allora la prima è siphon insight un instant a costo un blu nero guardiamo le prime due carte grimoire l'avversario ne mettiamo una faccia in giù e l'altra in fondo al deck possiamo giocare quella carta pagando il mana che vogliamo anche le terre possiamo giocarle flashback 3 mana può essere un buon investimento costa poco ed è versatile nei mazzi a base blu nero controlli può essere un'ottima un'ottima carta passiamo alla prossima che è cards of side in cattesimo costo 1 molto forte in commander possiamo chiamare comandante e farlo pagare addizionali due mana e quando l'avversario casta con la carta peschiamo una carta sacrificando la course in più è giocabile contro i combo di side nei formati come mother pioner eccetera standard eccetera quindi carta questa costa veramente poco la terza carta è una non comune file che sanse treveri poi è un simile rinforzi tempestivi quindi agosto 2 e sorcery se l'avversario ha più vite di noi guadagniamo 4 se l'avversario ha più carature di noi mettiamo 211 e se l'avversario ha più carte in mano di noi peschiamo una carta carta per modern e tutti gli altri formati anche standard se ci sarà monorosso sicuramente verrà giocata ottima carta un saluto di un abbraccio a me giusto flottus e dalla prossima ciao